facciamo un giro ragazzi bello a tutti raga benvenuti in questo nuovo video oggi andremo al lago di santa rosaria con i soliti sbalvolaggi guardate che panorama guardate 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 un'altra sigaretta un'altra sigaretta dove? la prima ossessione è buona come un trash siamo arrivati a giarratana che vanno le pivole buone 2 euro guardate allora voi dovete sapere che l'esemplare di federico selvatico voglio vedere al pubblico lui federico selvatico che era pittore molto noto e famoso praticamente se tu quello guardate lui per natura è mono espressivo cioè non è né triste né contento né in grado lui dice mi sono comprato una moto nuova mentre lui con la stessa pagatezza di riuscire a dire che si è comprato una moto e che è morta la nonna ciao se ti piacciono i contenuti di questo canale considera di iscriverti basta un click ed è gratis buongiorno buongiorno cosa c'è ragazzi ma per me che piccolino io non ci posso dare sì quindi si chiama rally con questa qua sì grazie mille buona giornata signorino questo è il mio terreno per favore è asciutto e questo non le devo andare è asciutto dicono dalla regia io scendo ragazzi il mio terreno per viaggio bestia 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 facciamo un giro ragazzi bestia 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 registrando ancora ciao sogno in tre formighe iscrivetevi al canale sennò non c'è una batteria ciao stai finito stai 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 studs stai 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 Grazie a tutti.